La festività liturgica di Santa Maria in Portico in Campitelli a Roma è celebrata ogni anno il 17 luglio, in memoria di una prodigiosa apparizione. In quella data del 524 Santa Galla, figlia di un senatore romano convertitasi al cristianesimo, vide splendere nella propria casa una luce dal cielo coi contorni di Maria o di Gitria. Le tracce di questa mariofania sono visibili nell'effigie oggi venerata nel santuario romano. In essa Maria indica il figlio quale via di salvezza tra due alberi di quercia, un portico e le figure degli apostoli Pietro e Paolo. Vergine Santissima, per la intercessione tante volte da noi invocata davanti a questa immagine, il tuo figlio Gesù ha esaudito le nostre preghiere mostrandoci il suo braccio potente e misericordioso. Guardo Maria con tenerezza le anime nostre, le nostre famiglie, questa città e questa nazione e fa che sperimentiamo la forza e la dolcezza della tua carità materna. Per i meriti di Cristo, vero Dio e vero uomo, allontana da noi la malattia, la fame, la guerra, l'ingiustizia sociale. Donaci l'abbondanza delle sue grazie e guidaci al porto della salvezza. Fa di noi, oh Maria, un popolo santo e devoto, invocandoti madre di Dio, possiamo godere il tuo amore qui in terra e la tua gloria nei cieli. Amen.